Ehi, fermati! Non buttarla! Scopri la rottamazione sulle vetture usate! Sì, dal gruppo Resicar, ritirano la tua vecchia auto da rottamare e le daranno un valore di almeno 1000€! Sì, hai capito bene! Se acquisti un usato di occasione dando in permuta la tua auto da rottamare, il gruppo Resicar te la valuterà almeno 1000€! Affrettati, è tempo di occasioni al gruppo Resicar! Grazie!